Gnfit System è un metodo nato per fare in modo che la medicina si possa legare all'esercizio fisico in palestra. Attraverso uno staff di medici io personalizzo il lavoro sulle persone, questo è possibile perché le persone che io visito vengono valutate anche da un team di medici, tra cui due medici molto importanti nel campo della prevenzione, della medicina di tipo funzionale. Una medicina volta alla prevenzione delle malattie piuttosto che alla sola cura. Gnfit System è una garanzia perché nasce proprio dall'unione forte fra queste due attività. Medicina preventiva e predittivo è l'esercizio fisico, fatto sulla misura delle esigenze di ogni persona. Questo esercizio fisico è un esercizio fisico estremamente efficace perché viene svolto in ogni condizione possibile, con ogni tipologia possibile di esercizio, per garantire forti risultati, per permettere alla persona di divertirsi in qualsiasi momento con me. Perché io ho la forza attraverso il mio team di dare risultati garantiti alle persone, attraverso alimentazione, allenamento e analisi personalizzate. L'alimentazione io la considero come un allenamento invisibile, che se viene svolto in maniera sbagliata produce effetti fondamentalmente negativi. Le persone dovrebbero capire che gli alimenti dovrebbero essere considerati, tra virgolette, come dei farmaci, perché ogni alimento che noi ingeriamo all'interno del corpo umano viene trasformato in qualcos'altro. Questa trasformazione può essere di tipo positivo o negativo. E quindi io credo che se noi stiamo attenti al nostro modo di mangiare, riusciamo ad eliminare tutta una serie di problemi che spesso ci attanagliano. Trasforma il tuo corpo, assicurati il successo, non è una frase, ma è una garanzia. In soli tre mesi cambierò il tuo corpo e lo farò perché la mia più grande gioia è realizzare il tuo cambiamento. Io realizzerò definitivamente quello che tu hai sempre voluto, un corpo nuovo in grado di poter darti tutto quello che hai sempre desiderato. Grazie a tutti.